Ehi, ci penso io. Ehi, è un tipo opposto. Perché non gliel'hai detto? Non era il momento. Ecco qua. Che cosa abbiamo? Niente di interessante? In realtà sì. Abby? No. Questa ragazza, Nora. La sua unità è legata a un ospedale. Raccoglievano scorte e medicine. Questo ospedale? Sì. Ehi, vuoi andare ora? Sì, è una pista. Non puoi almeno aspettare che Jesse si svegli. Potrebbe essere troppo tardi. Ellie... Sappiamo dove si trova. E forse anche Tommy. Cosa? Niente. Bene. Mi puoi aiutare con la porta? Sì. Allora, se seguo la ruta file... No.